Farmacie ancora sprovviste dei vaccini antinfluenza. Se da una parte aumenta la richiesta di quei soggetti che non rientrano nelle categorie protette o a rischio, dall'altra si attendono anche i test sierologici. Ieri l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha avuto una riunione con le associazioni dei farmacisti e i sindacati degli operatori sanitari. L'obiettivo è stato quello di fare il punto su questi test rapidi che potrebbero arrivare entro la metà di novembre. Intanto anche le parafarmacie delle Marche hanno chiesto alla regione di essere coinvolte direttamente nella battaglia contro la pandemia, offrendo la disponibilità a svolgere gli esami sierologici nelle proprie strutture. A illustrarci il funzionamento e la procedura è il farmacista Giovanni Pierini, eletto di recente nel Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Pesero Urbino. Sono degli autotest in cui il cittadino farà un perievo capillare con il supporto del farmacista e hanno un tempo di risposta di circa 15 minuti. L'esito verrà caricato insieme a tutti i dati del cittadino in un portale e questi dati saranno disponibili per le Asur. Fino a quando non sarà siglato l'accordo con la regione non sarà possibile effettuare questi test in farmacia né in convenzione né a pagamento. Dovremmo attendere dunque qualche settimana. Poi nel caso in cui l'esame dovesse dare un esito positivo al coronavirus, il paziente verrà contattato dall'Asur che a sua volta valuterà se effettuare un tampone nasofaringeo. E' rivolto questo test, ci aspettiamo che sia rivolto come in Emilia Romagna agli studenti sia della scuola dell'obbligo sia universitari, ai loro genitori e ai loro familiari, proprio per avere uno screening a tutto tondo della situazione nell'ambito scolastico.